Stanca di subire continui abusi da parte del fratello, una donna di Giffoni-Vallepiana di 64 anni ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine e chiedere aiuto. La donna viveva assieme al fratello di 66 anni, pensionato, con seri problemi di alcolismo. Veniva continuamente picchiata per futili motivi. Ogni discussione era il pretesto per l'uomo per malmenare violentemente la sorella. La scorsa notte però la donna, esasperata dai continui maltrattamenti, ha finalmente avuto il coraggio di chiedere aiuto alle forze delle carabinieri venuti presso il domicilio. La donna era stata aggredita al termine dell'ennesima lite, colpita ripetutamente dal fratello, riportando contusioni giudicate guaribili in quattro giorni. Il 66enne è stato arrestato e i carabinieri hanno accertato uno stato di ebrezza alcolica cronico ed hanno appurato la reiterazione del fatto. E a proposito di violenza...